L'elettrodotto Camin Dolo potrebbe venire interrato lungo il sedime dell'idrovia Padova-Venezia. È la proposta che Terna e la Regione hanno fatto al sindaco di Saonara, Stefan, e a quelli veneziani di Vigonovo, Camponogara, Stra, Miradolo e Fossò. L'operazione al momento sarebbe facilitata dal fatto che gli espropri sono stati eseguiti da molto tempo. Se per i sindaci veneziani questa soluzione pare quella migliore, a Saonara l'interramento dei cavi lungo l'idrovia avverrebbe comunque vicino a delle abitazioni. Perciò è probabile che nel primo tratto, fra Camin e Vigonovo, i cavi dell'elettrodotto vengano interrati sotto a campi coltivati perché altrimenti non ci sarebbero le distanze minime di rispetto dalle case e solo sfiorerebbero il territorio di Saonara. I primi giorni di settembre saranno decisivi, il 2 a Vigonovo, commissione comunale allargata a Saonara e ai comitati ambientalisti. Il 5 settembre sopra luogo dei tecnici di Terna per valutare le aree in cui interrare i cavi dell'alta tensione. Grazie. 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 Grazie.